Sta provocando più di una polemica il disegno di legge voluto dalla Ministra della Funzione Pubblica Giulia Buongiorno in tema di interventi per la concretezza dell'azione della pubblica amministrazione e prevenzione dell'assenteismo. Il provvedimento prevede che d'ora in poi in tutti gli uffici pubblici e quindi anche nelle scuole la presenza in servizio venga rilevata facendo riferimento a dati biometrici come per esempio le impronte digitali. I sindacati CISL Scuola in Testa lamentano il fatto che la misura sia stata inserita nel disegno di legge senza quasi nessun confronto con le parti sociali, senza considerare che le spese per l'installazione delle attrezzature necessarie saranno a totale carico del bilancio dell'istruzione, sottraendo in tal modo risorse destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche. L'Associazione Nazionale Presidi e l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici sostengono anche che per i dirigenti scolastici non è possibile prevedere meccanismi di controllo della presenza in ufficio dal momento che lo stesso contratto nazionale di lavoro non parla di un orario di servizio rigido. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e in questi giorni ha iniziato il suo percorso alla Camera. Il Governo sembra insomma intenzionato ad approvarlo in tempi rapidi ma potrebbe trovarsi di fronte alla opposizione delle organizzazioni sindacali. Ecco su questo tema continuate a seguirci sia sul canale YouTube sia nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché sicuramente nei prossimi giorni vi daremo ulteriori informazioni.